Golden Gate ATR il modello più trasversale della collezione trail running scarpa 2021 va bene per tutti e su quasi tutti i tipi di terreni anche se dà il meglio di sé su single track alpini non troppo tecnici e su strade bianche nasce per le medie e lunghe distanze anche se gli atleti che l'hanno provate ne sono rimasti entusiasti e le hanno scelte per gare più lunghe come ad esempio il portoghese andre rodriguez e gil pintarelli che hanno puntato su Golden Gate ATR alle porte di pietra è un modello che ha avuto davvero un grande successo l'hanno scelta sia atleti alle prime armi sia runner che vanno davvero forte la cosa ci ha incuriosito per questo abbiamo scelto di testarla e maltrattarla per voi la calzata è comoda ma al contempo contenitiva e avvolgente il suo punto di forza è in una suola che ben si adatta sia allo sterrato sia all'asfalto andremo nei dettagli pesa 290 grammi e ha un drop di 4 mm il comfort di calzata è garantito da un morbido calzino interno anche la tomai è stata progettata nelle forme in immateriali per garantire un fit ottimale è realizzata con materiali super leggeri ad alta traspirabilità che garantiscono contenimento protezione nella zona posteriore e centrale per poi semplificarsi e aprirsi nella zona anteriore dove favoriscono il movimento di flessione al piede l'intersuola è realizzata con eva espansa a doppia densità con compound realizzato appositamente per scarpa il battistrada con tasselli a geometria variabile da 4 mm permette la trazione su terreni sterrati mentre le isole centrali in eva la favoriscono in piano sull'asfalto il nostro giudizio Golden Gate ATR è un ottimo prodotto dal peso contenuto e prezzo molto competitivo ideale per chi ama macinare chilometri su fondi non particolarmente tecnici è un mix tra leggerezza ammortizzazione e stabilità la potrete usare nei vostri allenamenti in città ma anche metterla alla prova con ottimi feedback su percorsi sterrati